Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte dove mi sono recato una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la spiaggia di Solantis, mi sono recato personalmente nel mercato locale dove mi è stato suggerito un prodotto che rappresenterà un must-have per i giocatori del TCG di One Piece soprattutto in vista del prossimo set in arrivo questo dicembre. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia l'Ultradec The Three Captain Starter X del TCG di One Piece. La scatola raffigurerà in primo piano cappello di paglia con alle spalle Eustace Kid e Trafalgar Law tutti intenti nel prepararsi alla battaglia e i loghi della casa madre con il titolo del prodotto subito sotto stampati sulla parte frontale. Unicamente quest'ultimo riportato in cima allo starter, il solo Luffy con il numero di serie dell'articolo ed il titolo del TCG in questione sia sul lato destro che sinistro e la lista del contenuto con tutte le informazioni legali del caso descritte sul retro. A differenza dei nove starter pubblicati in precedenza, questo avrà dimensioni maggiori, due volte e mezza rispetto a uno normale e la motivazione di tale misure sarà presto detta. Una volta aperta la scatola infatti troverete un deck box di materiale plastico simile a quello custodito nella Gift Collection che raffigurerà Luffy sulla linguetta di apertura dell'accessorio, Kid sul lato sinistro e Trafalgar Law su quello destro dello stesso, la tipica bussola con il titolo del TCG sul retro e unicamente quest'ultimo sulla parte superiore del portamazzo. Portamazzo che avrà a sua volta all'interno sia un divisore che mostrerà i protagonisti del decimo campeggiare sovrani al di sopra del logo del GCC ed il deck protagonista dello starter che vedrà per l'appunto i tre capitani più famosi della nuova generazione fare da leader con colorazione rosso-viola per tutto il trio e carte a supporto che forniranno una base di partenza molto valida per tutti coloro che vorranno prepararsi per l'arrivo in pompa a magna di OP05. Infatti la controparte character di Kid e Trafalgar vedranno le loro rispettive presenze, chi più chi meno, nel nuovo Luffy in tinta unita violacea, assieme a personaggi secondari ma allo stesso tempo fondamentali per la manovra strategica del deck come Saci e Penguin, Jean Bart, assieme agli event Gangnam, Jansumo Slap e Punk Vice. Mentre i Luffy a costo 10 Rush, sono certo troveranno spazio in un meta che vedrà il rosso agire dalle retrovie questa volta dopo un predominio durato anni, ma mai sottovalutare la potenza insita di questo colore, soprattutto in combinazione con altre tonalità. In più, tra gli elementi presenti nel deck ci saranno le versioni alternative di Zoro Rush e Nami a costo 1 Sercino, entrambi in playset, che permetteranno così ad ogni nuovo giocatore di mettere le mani su due delle carte più iconiche ricercate di Romance Dawn, il primo set del TCG di One Piece. E devo dire che, a differenza delle versioni originali, dove i personaggi sono stati ripresi a riposo, come se stessero posando per una foto, quelle dello starter avranno una marcia in più, riportando questi ultimi in azione e avendo una foilatura nettamente superiore e più rifinita rispetto alla classica. Stessa storia per ogni singola SR presente nel prodotto, che in realtà appariranno più come delle alternative, possedendo lo stesso grado di lavorazione rifinito con lamina lucida a coprirne la superficie. Ed anche i leader appariranno simili ai tipici faccioni delle alt dei rispettivi colleghi, presentando una cura nel dettaglio, come l'achi del reconquistatore e dell'armatura, che risalteranno contro luce per quanto riguarderà Luffy, alcuni tratti della spada e del frutto Ope-Ope in azione, per l'ho, e le saette lanciate durante la preparazione di una delle armi micidiali generate dal frutto Mag-Mag con i tratti della stessa arma pronta a fare fuoco per quanto riguarderà Kid. Ultima presenza, ma non per importanza, vedrà anche dieci donne accompagnare il tutto. Ok, Arconte, come sempre, sì, ma questa volta saranno tutti foil. Infatti, ogni elemento presente nello starter appartenente a questa categoria vedrà una finitura a contratto iridescente che vi consentirà di sfoggiare quindi, in tutta la loro bellezza, questi articoli che sono certo piaceranno a diversi aspiranti re dei pirati. Un'altra cosa che ho notato comunque è che l'iridescenza non è comune solamente ai donne, ma anche a tutte le carte rare che, a differenza delle loro compagne provenienti da set o collezioni varie, possiederanno molti più riflessi colorati. Cosa aggiungere? Un prodotto davvero ben pensato e che giustificherà alla grande il suo valore, soprattutto per le carte che si troveranno all'interno della scatola, che, ricordo, rappresenteranno una validissima base di partenza per prepararsi nel migliore dei modi alla venuta di Awaking of the New Era, il quinto settimo arrivo tra un mese. Prima di concludere, però, vorrei rispondere ad una domanda che mi viene fatta spesso. Converrà acquistarne due o uno per poi recuperare le carte singolarmente? I tre capitani verrà venduto a 40 euro e dal suo interno saranno presenti carte molto importanti per le vicende che si svolgeranno in OP05. E mentre sto registrando questo video, sia i prezzi di Law che di Kid si aggirano attorno ai 22 euro di minima per il primo e 18 per il secondo su Car Market presi singolarmente, per un totale, se considerati in coppia, di 80 euro. Sia chiaro, questi sono prezzi dettati dalla frenesia del momento e saranno soggetti, come sempre, alle oscillazioni di mercato, sia in salita che ovviamente è in discesa. Quindi rispondendo alla domanda principale, la risposta sarà acquistatene due se avrete fretta di comporre un deck con uno dei tre personaggi protagonisti dell'articolo come leader, anche per avere il playset completo di ogni carta, o semplicemente aspettate che il tempo faccia il suo corso, valutando di settimana in settimana se converrà invece che comprare una seconda copia dell'intero deck solo alcuni elementi nello specifico. Concludendo quindi, consiglio caldamente l'acquisto di questo incredibile articolo che andrà ad arricchire il già fiorente mondo del gioco di carte collezionabili a tema piratesco, portando una varietà di scelta a tutti coloro che vorranno iniziare a muovere i primi passi, o per meglio dire, iniziare a veleggiare con il vento in poppa alla volta del grande tesoro lasciato in eredità da Goldroger. Come sempre, in descrizione, vi lascerò il link dove potrete acquistare la vostra copia personale, così da poter toccare con mano la qualità eccezionale di questo decimo capitolo, lato starter, del TCG di One Piece. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica, non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!